vai buongiorno a tutti sono filippo piccolini presidente di club bigevano e oggi ci troviamo alla mensa della madonna pellegrina per augurare buon natale a tutte quelle persone che sono in difficoltà e che vengono a ritirare un pasto caldo cucineremo per loro e il menù è polenta con gorgonzola polenta con spezzatino lasagna al forno e torte salate come auguro di buon natale gli regaleremo una bella fetta di panettone e un mini pandorino da portare a casa questo è uno dei nostri service principali ci abbiamo voluto anche in questo momento di difficoltà a fare e volevo comunque augurare a tutta la città buon natale un 2021 speriamo migliore di questo appena trascorso e speriamo di vederci appunto l'anno prossimo magari senza tutte queste restrizioni in piazza per i nostri classici eventi un ringraziamento anche all'amministrazione comunale e a don moreno che ci ha permesso di svolgere questa bellissima giornata ciao a tutti